Per i due mesi Oh, ah sì, adesso guardo un attimo la roba di Harry Laza Aspettiamo che finisca la hype train No, perché mi sa che sono apporso il video di Harry Laza così immobile Non lo so, perché è già uscito, effettivamente Può essere che sia già uscito Grazie, Unreal Fugur Grazie per i tre mesi, molto gentile In realtà è sbagliato, come lo scrivi? Ivy 20021 Ivy 20021 Ah, hai ragione, perché metto un trattino Ma pure qua, cioè Ma scusa, ma Ivy, dimmelo, Dio bono Non vedo l'ora di fare un allineco Vabbè, il trattino, ma infatti È veramente un mito, è proprio bello Anche i suoi herpes mi piacciono tanto Wow, wow, è proprio bello Non vedo l'ora di basarlo sulla bocca Eh, ho sbagliato, scusate Non torno come prima Grazie Tania, grazie mille per i 17 Grazie mille, ho sbagliato, no, veramente Ho proprio pisciato fuori dal vaso Ho proprio pisciato fuori dal vaso, chiedo scusa e Mi rendo conto Sono cambiato Ma questo è un meme davvero Che non è nessun tipo di Di... Sì, è vero, assolutamente Ah, sono nella copertina di Henry Lazza Addirittura La situazione qua è tragica Ma veramente? Vabbè, adesso è nella copertina È un furbacchione, vediamo È Henry Lazza Niente, sono nella copertina di Henry Lazza Dio bono, ma assurdo Cioè, assurdo Cioè, è veramente un bastardo Henry Lazza Scusate un secondo Ok, adesso voglio vedere Cioè, nella copertina Mi ha messo Dio bono Ci hanno detto solo Ciao, ciao Mi ha messo nella copertina Ma pensa a te Scusate A me fra un caso Sto scherzando ovviamente Anche un bravo ragazzo Ogni volta è sempre educato Quando lo vedo Eeeh Transform Magazza si fa Sposta Vabbè, a parte che è morto L'hyp train Però Non si sa mai Grazie Refrotto per i quattro mesi Grazie mille Molto gentile Molto, molto, molto gentile Grazie mille Perfetto Grazie Gona VLR Grazie mille per i tredici Bentornato bro Grazie Allora Aspettate un secondo Ecco Aspettate un secondo Ciao Dai Eccoci qua Ma che cazzo lo tengo a fare Dio bono Vabbè Se volete sabbarvi vi sabbate Se no Amen Voglio vedere sta roba di Henry Lazza Che Cristo Dio mi ha messo nella copertina E' veramente La situazione è tragica Aspetta Vediamo un secondo Se Mi si vede tante volte Minchia che abuso Dai Non è possibile Io non merito questa cosa Io non me lo merito ragazzi Io non me lo merito Che sarà stato un abuso unico Io immobile Ma poi guardate la copertina Dio bono Faccio vomitare Dai Ma come puoi Cioè guardate la copertina Che roba Ci sono proprio io Ma dai pure Spap Si vede Si vede pure Spap Mica Se lo scopre mio padre Impazzisce Si vede benissimo Spap Porca troia Se lo scopre Spap impazzisce Se lo scopre No 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 Spap impazzisce Si vede benissimo Si vede benissimo Spap No 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 È rilasso Devo mandare la segnalazione Del video Spap impazzisce E no Beh E no No Si vede Spap Porca troia Ti prego Dimmi di no 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 Non è possibile Che si vede Spap Niente si vede Spap No No Si vede mio padre È finita È finita No No È rilanza Figlio di puttana No Si vede mio padre È stato appena inquadrato Mentre ha detto Vaffanculo Porca di quella troia Porca di quella troia No No C'è dietro tra l'altro Quello che fa gli anagrammi L'anagramma di Milano Il Duomo di Milano Dio Face reveal No 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 Non ci credo Minchia Io presente in tutto il video No Io te lo faccio togliere È rilanza Te lo faccio togliere No No Te lo faccio togliere Figlio di troia Te lo faccio togliere Dove mi chiedermelo Non me l'hai neanche chiesto Rilanza Sei un bastardo Non ho il suo numero Lo vorrei chiamare E fare fuori Ciao No Com'è felice Spap No Un momento intimo Di famiglia Un momento così intimo Di famiglia Io e Spap Grimbo leggermente provato Dio Bono Non ci voglio credere Boh Se lo scopre Spap È finita Se lo scopre Spap È finita E Spap lo segue pure E rilanza Perché quando ci sono seduti Vicino lui fa Lui lo seguo Mi sa che lui fa video sul Milan Sì 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 è lui Mamma mia Se si vede Spap impazzisce Mamma mia Che sei colleghi di Spap Perché Spap non vuole entrare Nelle mie live Solo perché ha paura Che i colleghi Tipo lo prendano per il culo Quindi tipo immagino il meme Di Spiderman Appena i colleghi di mio padre Vedono Spap E vedono di rilanza Tipo Subito No È finita Bro è finita Bro è finita Che disastro Che disastro Che disastro Nella mia No Eh non Non so cosa farci Rilanza minchia Sei un bastardo Sei un bastardo Rilanza Mamma mia Spero ti esploda Casa Cazzo Spero ti esploda Casa Ti giuro Grazie Tom5Y Grazie Xudershot Grazie Gon Grazie mille Mamma mia È finita È finita E io glielo faccio Io glielo butto giusto il video Io glielo butto giusto il video Glielo butto giusto È esagerato Io sto scherzando ovviamente Non c'ho una conto con lui Sto scherzando Non sto scherzando Vorrei che si capisse Che sto scherzando Figa Cioè lo conosco Non è che Porca vacca Però scusate Vi faccio questa domanda A voi magari C'è qualcuno che studia giurisprudenza Realisticamente Io potrei chiedergli Di censurarlo Perché il papo Non si vuole far vedere Cioè Realisticamente Bisogna chiedere Non lo so se come funziona Però San Siro In realtà è un posto privato Non lo so Quindi San Siro però è un posto privato Di pagare il biglietto Per entrare allo stadio Vabbè L'avete visto tutti Però almeno non rimane Cioè lui è un po' la fissa Tipo Che non vuole rimanere Oddio mi sa che mi ha chiamato Spap Ma no Non mi ha chiamato Spap SC mi ha chiamato O è Sofia Crisa Fulli Ma mi sembrerebbe Veramente strano Ah Stefan Mi chiamavamente Sono in là È un deficiente Grazie a Zfil Grazie Filippo No la situazione qua È veramente tragica Devo capire un attimo Devo capire un attimo Come gestirla Ciao Devo capire un attimo Come gestirla Henry Lazio ha detto Che lo toglie Ma come è possibile Ma ne ho parlato Un minuto fa Ma perché mi sta contando A chiamare Oh sono in live Di Obono RTTRTR Vabbè Non lo so Grazie Jacopino Grazie Brando Masati Per i 16 Grazie mille Molto gentile Mamma Eh non ho il numero Non ho il numero Di Henry Lazio Non ho il numero Eh ma perché io non pensavo Perché io Ogni tanto vedevo C'era il telefono vicino Però a me di apparire Ovviamente mi frega un cazzo Cioè non è una questione Cioè a me non cambia nulla Di apparire O non apparire Cioè di solito Cioè preferisco di no Perché sono un po' Fuori dalla comfort zone È una roba che non mi rappresenta Ma a me ne frega un cazzo Cioè poi È un bravissimo youtuber È un bravissimo youtuber Henry Lazio Quindi c'è di apparire In un suo video Figurati Cioè anzi Quasi onorato Per carità Però Più che altro Mio padre Non vorrebbe Quello che mi mette Un po' a disagio Non saprei cosa fare Cioè perché mio padre Non vorrebbe apparire E non ci ho pensato Perché io non pensavo Neanche di essere A malapena Cioè pensavo di non essere Inquadrato io A malapena Capito Quindi mi sento un po' A disagio io per mio padre Ditemi voi cosa dovrei fare Non lo so Grazie sono Favela Per il Prime Grazie Enrico Per i 10 Grazie Niki86 Grazie mille Chiamasci proprio chi da lui Eeeh Non mi sono ancora rotto Il cazzo Eh ma non lo voglio Non posso chiamarlo in live Poi Cioè No Grazie Sacco Per il Prime Grazie sono Favela Per il Prime Grazie mille Molto gentile No poi Spap è strano Minchia Una volta l'ho chiamato in live Ma ha sparato un Enworth Dall'altra voce Solo perché voleva farmi bannare Tutto fuso Figa Cioè Non lo so È un po' particolare Quindi cioè veramente Quindi Non lo so se chiamarlo in live Poi è tardi 10 e mezza Un po' Un po' tardi Sì 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 Oh pazzo furioso È arrivato Mamma mia Ciao Non so Non so Non so cosa fare Enri Laza ha messo una storia su Instagram Ma quanto potrebbe essere mai veloce Io non ce l'ho il numero di Enri Laza Anzi In realtà sapete Sai che ce l'ho il numero di Enri Laza Ah sì che ce l'ho Me l'ha mandato È vero ma ce l'ho pure nella rubrica Ce l'ho il numero di Enri Laza E però ragazzi Io cosa gli dico Enri Laza Scusate Cioè metteteli nei miei panni Cosa gli devo dire Enri Laza Ciao bro Puoi censurare Spap Dico di web Enri Laza mostra il famoso Spap In un video YouTube Ma non è una questione Cioè è una questione che So che lui non vuole apparire Quindi mi sento a disagio Di averlo portato in un contesto Dove è apparso Non so come dire Cioè metteteli nei miei panni Mi sento in colpa È quello il concetto Grazie Pu dei No 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 Si può censurare Anche dopo che il video Si è caricato Non deve toglierlo E rimetterlo C'è la funzione di YouTube Che ti permette di censurarlo Quindi in realtà Lui non costa un cazzo Cioè costa semplicemente Del tempo Che deve stare a censurare Non lo so Non lo so Gli mando un audio Gli mando un audio Facciamo così Gli mando un audio Vediamo Allora Ma non voglio chiamarlo Non voglio disturbarlo Ciao Enrico Lazzari No come cazzo si chiamano Scusate Sbagliato tutto Non li faccio Li faccio Enri Lazio Chiamo Enri Ciao Enri No Non mi faccio veramente La tica Lazzarato No mi fa ridere Scusami Enri ma Lazzarato È grosso Enri Facciamo Enri Ciao bro No Enri o bro Bro Ciao bro Ciao bro Ciao bro Sono Greenbaud Mi sono fatto dare il tuo numero Da un Cioè avevo il tuo numero Non perché te l'ho rubato Ma probabilmente Qualche gruppo Non so se rile Il gruppo puttane di TikTok Ho sbagliato Probabilmente Però l'ho trovato da lì Porca troia Li facciamo Squatte Ok Ciao bro Ciao bro Sono Greenbaud Non Green Verde Porca troia E io ho problemi a fare gli audio Ciao Ciao Ehi No Pronto No Guarda Ciao bro Sono Greenbaud Mi sono fatto passare il tuo contatto Per una cosa Sono in live in questo momento Non è rilevante E ho visto il tuo video Su YouTube Quello del mio Cioè del PSG Quello abbiamo vinto È stata una bella partita È stato anche bello Condividere con te Questa esperienza Personalmente E c'è C'è rispetto tra noi Io ti rispetto tantissimo Cioè nel video Di fianco a me Mi si vede tanto Sono anche in copertina Cioè ci sta Però si vede Spap Che è mio padre E lui secondo me Cioè non voglio che lui si veda Perché lui Cioè non vorrebbe apparire un video Se riesce a mettergli Non so Qualcunque cosa Un cazzone enorme in faccia Qualunque cosa Per censurarlo Secondo me Gli farebbe piacere Anche una semplice censura Cioè tipo sfocarlo Se riesci con la funzione YouTube Analytics Studio Mi farà estremamente Un gran piacere Scusa per la lunghezza dell'audio È comunque più lunga Nel mio pene Però non volevo farsi Sabato Tutto non abbiamo la confidenza Tale per renderle dire Divertenti Infatti non starei ridendo Ma mi auguro comunque Che tu mi accetti Per quello che sono Sono green Uno streamer Scusa per l'audio Un confusionario Ma gliel'ho mandato Mi sono un attimo Lasciato prendere Mamma mia Mi sono lasciato prendere All'ultimo Vabbè gli ho mandato l'audio Grazie sono Cammy Grazie mille per i 6 Grazie Nicole V3 per i 4 Grazie Volleyfabio per i 14 Grazie sono Kata per i 14 Grazie putte per i 5 Grazie sacco per il prime Grazie mille Molto gentile Grazie Johnny Tondo Per i 13 mesi Bentornato Grazie mille Allora ragazzi Oggi Format incredibile Grazie a Fede You Che potete scrivergli Per far indovinare La vostra età O quella di vostra nonna Vostro padre Vostro zio Vostra sorella Ci saremo io Manuxo Non si sa perché In realtà mi sa che non c'è Perché probabilmente Sta dormendo Che c'è i ritmi sputtanati Ci saremo io Coc Joe e Jody Saremo io Coc Contro Joe e Jody Molto probabilmente Oppure mischieremo le squadre Quindi sarà un solito 2 contro 2 Entrerete voi Da casa Ed entreranno Veramente Delle persone particolarissime E dovremo indovinare l'età E anche voi Dalla chat Dovrete indovinare Quindi potete giocare I vostri punti canale Quindi oggi Si possono vincere punti canale Vincere premi incredibili Grazie Milano Silvestro Grazie a Mjust Nico Per il prime benvenuto Grazie mille ragazzi E minchia Milano Silvestro Per i 22 mesi Incredibile Molto molto gentile Sì ma è già 8-8-9 E' andato anche male Che il Milano ha vinto Quindi quel video lì Grazie mille